Ah ma che stai ammirando il nuovo 400 gradi Sicilia Io non vorrei ammirare questo locale, hai capito la signora? Che ha fatto? Sembi con gloria l'ave Guardate che meraviglia Ha fatto bene Il tuo borsello è vuoto Ma qua cosa c'è? Guardate che meraviglia Questa è la prima sala, qua c'è un'altra sala C'è una sorpresa Ah una sorpresa Perché che c'è? No vabbè che c'è? Andiamo se lo riconoscendo Prince No vabbè Ma qua è Prince Prince Che meraviglia Ma chi te l'ha fatto questo quadro? Una pittrice Fina Vabbè continua Da sera fino Sera fino Vabbè continuiamo Poi gloria Io mi prendo questo che mi devo sedere Ma questo è 400 gradi Mi porto anche questo che mi devo sedere Questa è un altro 400 gradi Sicilia gourmet 2.0 No vabbè Guardate ragazzi Vi ricordate quella di Via Unbe? Ah c'è un bar Ma non è che me lo devi distruggere E' nuovo E' nuovo No vabbè No vabbè 402.0 Ragazzi Gloria Cetta Ha fatto Prince che stai uscendo Non è per me E' scandato E poi altre tante cose speciali Ah tante cose speciali Per noi Ma qua che c'è Che c'è Guarda Grazie No che non è tuo È un po' delicato È un po' delicato È un po' delicato Per chi è? Per quei signori Prego potete portare Ma come signora A quando che ci cascava una pallina? Ma che pallina hai? Scusa A meno Devi fare qualcosa Cioè fai il cameriere stasera Fai il cameriere Scetto Mi sembra giusto Questa è un'altra sala No Gloria? Questa è un'altra sala Meraviglia Meraviglia Scetto Buonasera Ma che è? C'è? Ma che è? Ci abbiamo colleghi qua? Scetto Buonasera 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 No vabbè Che meraviglia Che meraviglia sta mangiando No vabbè Allora I pallini li cascano Vabbè ragazzi Qui è coreografia Scena Ti riesco a arrivare Ti do la mia forma La mia forma Vabbè ragazzi Io li lascio E che dì Che dirvi Questo è il 400 gradi Sicilia Colmè 2.0 E tra poco Vi faremo vedere Se ci sono novità culinarie Scetto A tra poco Grazie a tutti Grazie a tutti